Sì, sì, vai, vai, custode, diceva mio papà, un bel mestiere. Ecco qua, Purghi, 02-27-41. Allora, fate l'intervento vestito così. Ne parliamo dopo che adesso ho un codice 24 da fare. Signor Angelo Custode, lei è licenziato. Ah, va veramente cagato. Un robot. Un robot? Neanche uno del leste. Un martino, un cingaleso, un filipino. Un robot. Problemi, ma che tutto lisce come l'olio? Sa cosa le dico io? Dica. Che lei può andare a cagare. Azaf, subiteli, immediateli. Sono robot di ultima generazione, prestazioni venti volte superiori al personale fisico. Mio, ma cosa c'è da mio? Cara mia signora, easy out. Voi non potete licenziarmi in fronte. Già! Wow, 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 wow! Il Custode, l'uomo sicuro, le fondamenta stesse del palazzo lo spoggiano a loro incrollabile. Il Duda, il Duda, il Duda, il Duda. Ho capito, ho capito. Se entro un mese non salta la sua, salta la mia, di testa. Ma certo! Oh, stop, oh, vai!